E' partita lo scorso 14 ottobre la campagna anti-influenzale 2022-2023 per i soggetti a rischio e con priorità. I vaccini sono disponibili dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta. L'azienda sanitaria ha a disposizione 150.000 dosi di vaccino quadrivalente, 16.000 di quadrivalente pediatrico, 70.000 di quadrivalente adiuvato e 4.000 dosi di quadrivalente ad alto dosaggio indirizzate alle RSA. Possono essere vaccinati gratuitamente i soggetti fragili e gli over 60 come già negli anni passati e poi confermata anche la possibilità di somministrare l'anti-influenzale con l'anti-pneumococcico e con quello anti-Covid-19. Quest'anno in particolare sarà importante fare entrambe le vaccinazioni da una parte per il Covid perché è bene mantenere il livello anticorpale a livelli adeguati per essere maggiormente coperti. Teniamo presente che questa è una vaccinazione che come quella anti-influenzale non copre dalla infezione o dalla infettività ma certamente evita le forme più gravi e quindi è sempre bene farla. Per quello che riguarda l'anti-influenzale ripeto quello che ho detto già a proposito del Covid perché però diciamo che è proprio l'anti-influenzale che ci ha sempre insegnato che la vaccinazione anti-influenzale ci aiuta nel ridurre le complicazioni quindi le polmoni nitide che portano poi a morte il paziente più fragile. Quest'anno l'anti-influenzale è forse ancora più importante perché veniamo da due anni di mascherine e distanziamento sociale. Esattamente, questa è una cosa estremamente importante in cui quello che diceva giustamente lei mascherine, distanziamento sociale, riduzione degli assembramenti e via discorrendo hanno estremamente limitato, anzi evitato quasi del tutto la diffusione dell'influenza. Quest'anno sono venute a mancare le mascherine, il distanziamento, gli assembramenti che nuovamente ci sono penso alle partite di calcio, alle scuole, a tante cose per cui penso che l'influenza sarà molto più diffusa e forse anche più intensa.